salve a tutti io sono g90 gamer e benvenuti su power wash simulator dunque hanno fatto un simulatore di idro pulitrici che purtroppo dovremmo avere a che fare con un bel po di sporcizia ma all'occorrenza anche porconare a destra e sinistra dunque io non so quanto nulla di questo primo appuntamento so soltanto che abbiamo ben tre tipi di idro pulitrici che partono dal primo livello per poi dopo arrivare anche al terzo livello dunque abbiamo la carriera lavori speciali il free player i free play che dovrebbero essere mi sa roba infinita una roba del genere ora non so dunque io andrei quasi quasi con una carriera dunque però prima di andare con una carriera dunque abbiamo da pulire questa credo casa se così si vuol dire però in progresso non ho niente completato ho soltanto completato questo qui che forse magari lo possiamo fare direttamente insieme però i dettagli vedete che in tal caso abbiamo tutti quanti i dettagli dove possiamo andare a pulire con la nostra idro pulitrice dunque allora aspettate un po' una roba perché volevo vedere un attimino dunque come detto abbiamo da pulire tutta quanta questa casa per ben 400 dollari io dirai quasi quasi di iniziare proprio adesso ed in effetti noi abbiamo ancora ben 150 dollari però possiamo acquistare come potete ben notare le idro pulitrici i liquidi i saponi eccetera per roccia metalli legno sapone universale eccetera però per poter usare questo detergente diciamo detergente dovremmo andare ad acquistare eccolo qui il fraconcino per mettere all'interno il sapone poi abbiamo anche gli ugelli il turbo nozzle che dovrebbe essere quello lì ruotante poi abbiamo le parti che si estendono anteriormente della nostra idro pulitrice come ad esempio questa questa qui questi qua sono altri due tipi di ugelli abbiamo questa qui di terzo livello secondo livello terzo livello secondo livello terzo livello e questo qua dovrebbe essere all'incirca universale credo che ah no questa qui è per la prime vista 3000 sì in effetti dunque però non la possiamo ancora acquistare per esempio ci ho fatto che costa ben 600 dollari mi sembra un po' alquanto eccessivo come prezzo sono onesto però possiamo acquistare questa qui per la prime vista 1500 da ben 75 dollari però per il momento ragazzi non ci preoccupiamo noi per il momento abbiamo la prime vista 1500 che dovrebbe essere la idro pulitrice di primo livello poi abbiamo quella lì da secondo livello e poi abbiamo quella lì da ben terzo livello che costa ben 2000 dollari se voglio prendere quella lì da secondo livello abbiamo bisogno di ben 1250 dollari dunque io direi di metterci con santa santa pazienza ed iniziare quantomeno a ripulire questa dannatissima casa con il giardino eccetera calvin miller dunque facciamo uno start job e vediamo un attimino di quello che si tratta questo titolo dunque io oggi ho fatto il primo diciamo tra virgolette tutorial sul nostro bellissimo dov'è che si trova aspettate oddio il nostro bellissimo furgoncino là sotto eccolo qui o maronne e se primo tab guardate un po lo slerciume qua davanti maronne santissima maronne abbiamo anche la possibilità di poter portarci da casa la scaletta con la scala quella più grossa però per il momento diciamo che è ancora abbastanza piccolo semplicemente se non ricordo male mi sa che quando arriviamo un po più in avanti con il gioco ci dovrebbe essere una caserma dei pompieri da pulire e ogni tot di percentualità che ci va a sbloccare ci dovrebbe sbloccare per l'appunto un po di nuovi lavori ora detto questo signore e signori io direi quasi quasi di iniziare dunque abbiamo come potete ben notare le idropulitrici qui abbiamo invece il sapone mentre qui invece abbiamo gli ugelli da zero che dovrebbe essere quasi tipo come una spada laser poi abbiamo il getto da 15 che possiamo anche andare a ruotare con r ma di sicuro già avete visto qualche video da qualche altro e abbiamo anche il lugello da 25 lugello da 40 dunque questo qui forse magari con quello lì da ben quanto è che era da 25 credo che dovremmo essere a posto dunque io direi di iniziare a ripulire questa macchinetta dovremmo quantomeno andare un pochettino più spediti perché lo slurciume è attaccato veramente come se non ci fosse un domani e ci dobbiamo anche abbassare non dobbiamo stare troppo vicini perché se no altrimenti non ce lo da come completato ovvero se mi avvicino guardate che l'idropulitrice in tal caso si mette di lato perché siamo un po troppo attaccati vicino guarda qua quanto slurciume che ci sta attaccata vicino a sta macchinina qua dai non è vero non ci credo ma dobbiamo pulire tutta quanta la macchinina a quanto pare mi sa proprio di sì ragazzi oddio o maronne santissima però devo dire che l'effetto grafico è fatto veramente benissimo non ho nulla da dire al riguardo di questo titolo come detto ribadisco è ancora la primissima primissima volta che ci sto giocando dai su fammi un bel ding dovrebbe dingarmelo di color celeste quando facciamo una cosa però per il momento non mi sta a dingare assolutamente niente dunque abbiamo l'ugello da 25 da 40 invece dovrebbe togliere un pochettino un po più di sporcizia dai forze dingamelo dingami tutto tutta sta cavolo di macchinina maledizione dove cavolo è che sei sporca ancora oddio ma è veramente molto molto ostinato o maronne no dai non ci credo non ci credo sono qui da mezz'ora stare a pulire questa cavolo di macchinetta e dai e maronne cacchio vabbè comunque sia passiamo alla parte anteriore eccolo qui perfetto mamma mia oh e che cacchio dunque mi sa che l'interno l'abbiamo fatto il parabrezza anche mi sa che ci manca ancora qualche altra cosa da qua vicino fatemi da un'occhiata e mi sa proprio quasi quasi di no no perché non vedo nessun tipo di puntino o pixel giallo ok siamo ancora allo 0% signori siamo ancora allo 0% dunque ruota qui vediamo un po se con quello là da ben 25 gradi dovremmo riuscire quantomeno a ripulire il marciapiede qui ok perfetto ottimo io direi di ripulire anche questo so che è abbastanza difficile come gioco però bisogna veramente tanto tanto porconare oddio i miei neuroni stanno veramente quasi per sfinire ma come detto siamo ancora all'inizio quindi non vi preoccupate perché ci sarà veramente tanto 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 da bestemmiare qua vicino come detto ribadisco l'effetto grafico è fatto veramente benissimo guardate un po poi ovviamente avremmo anche la ruggine cavolo non dirmi che questo qui è attaccato alle scale perché ci stanno vari tipi di punti che in tal caso ecco qui lo sporco che in tal caso sono staccati da qualche altra cosa ecco qui tutto quanto lo sporco aspetta che te lo ripulisco tutto now e dai dingamelo dingamelo maledetto no eh proprio che non me lo vuoi dingare eh brutto nano malefico che non sei altro e dai eh maledizione maledizione poi ovviamente ci stanno anche i saponi che noi possiamo tra virgolette fare un pochettino i cittoni e ci dovrebbe dare quantomeno una extra pulizia ma che cacchio sto guardando qua ma che roba è questa oddio ma questo qui dovrebbe essere tutto grasso e mamma mia il grasso della del barbecue guardate qua che non va via devo passare dieci miliardi di volte sopra però secondo me con quello là da ben 15 dovrebbe essere da sì da 15 dovrebbe andare via in men che non si dica eccolo qui come detto sto iniziando veramente quasi quasi a porconare del tutto però se non vado troppo veloce dovrebbe riuscire quanto meno sottolineo quanto meno a ripulirmi tutto perché se vado così non faccio assolutamente niente anzi faccio più danni che bene cioè ma voi siete pazzi a ridurre un cavolo di vialetto di una casa in questo stato oddio devo stare anche attento alle impronte perché sennò va a finire che le mie talpade arrivano ovunque ovunque a rigirami un attimino l'ugello qua vai così oddio che il fatto che abbiamo anche da fare il barbecue è lì che sono veramente tanti e tanti porchi da tirare che i miei già stanno arrivando alle stelle sono onesto dai dingamelo dingamelo brutto maledetto sotto sì sotto ci sta però mi sa che c'è anche da qui o maronne ma perché ho iniziato questo gioco adesso non lo so ragazzi non lo so era per provarlo era per poter portare qualche cosa di nuovo sul canale e da quello che ho capito mi sa che hanno implementato un gioco anche di taglia erba eccetera di falciatrici eccetera non so ancora quando dovrò giocarci oh finalmente santi dio ti ringrazio oh maronne ti ringrazio ancora di più gioco e dicevo non so ancora quando iniziare a giocare a quale determinato titolo anche la bombola del gas ma serio oddio ma questo qua è veramente azzozzato ma proprio che è una freschezza sto cavolo di barbecue maronne santissima ma come cavolo avete fatto a ridurre un barbecue o un vialetto di una casa in queste cavolo di condizioni non si saprà ancora cioè ma stiamo scherzando vero signori stiamo scherzando guarda qua guardate qua lo sporco veramente incrostato proprio come se non ci fosse un domani oddio oh maronne ok un'altra parte me la dingata ottimo a rigirami qua l'ugello dai dingami un'altra parte brutto maledetto si se andiamo con l'ugello da 15 credo che dovrebbe essere più o meno una cosa fattibile ora resta il fatto che mi sa che qua ci sta proprio il grasso proprio stina ollele il grasso proprio ostinato quindi direi di passare a quello la a zero tipo come una spada laser che questo qui in tal caso ti rimuove completamente tutto eccolo qui dai e forza dove cavolo è che si sporco ancora non ce la faccio più oddio cioè no ma veramente ma guardate qua vai a ripassa di nuovo a questo qua a 15 ok un'altra parte dingata ottimo dai dingami anche questo giovane forza dingamelo e dinga diga scusi oddio perfetto ce l'abbiamo fatta mi sa che questo qua eccolo qua perfetto la bombola me la dingata e mi sa che abbiamo sotto eccolo qua ottimo perfetto mi sa che qua non c'è oddio faccio i mega saltoni e salve signori buongiorno c'è nessuno scusate vengo un attimino a ripulirvi la vostra casettina oddio maronne poveri uccelli io non so come cavolo avete fatto a sopravvivere qua dentro forse minimamente se ne saranno scappati via di qua beh hanno fatto un'ottima cosa a scapparsene però eh lasciate ok un'altra parte è fatta dai è così dai e dingami qualche altra cosa guarda qua maronne sto tetto come cavolo è rovinato guarda qua slercium è proprio attaccato come oddio che bello finalmente abbiamo dingato anche questo sì ragazzi come potete ben notare siamo ancora al 6% bisogna fare anche la falcia erba questo capannino la sedia dindolon oddio mamma mia ma che cavolo di gioco sono andato a prendere pure io ma non potevo farmi gli affari miei no oddio o maronne guarda qua che cavolo di schifume che ci abbiamo cioè ma dico io no ma siete veramente sicuri che una casa si tratti in questa maniera oddio ma ha tirato pure una botta di lag ma vabbè non fa niente però dico io no ma una casa tenuta in questa maniera in questo stato maronne però a parte il fatto che comunque sia ribadisco è fatto anche fin troppo realistico sono onesto oddio o maronne abbiamo anche da fare il tetto ma siete veramente delle m più totali sviluppatori però è guardate qua lo slercium è attaccato proprio come se non ci fosse un domani cioè che poi ribadisco anche sotto maronne dico io no ma come cavolo fate a ridurre una roba del genere così ma sarete veramente delle m più totali giovani cioè che poi a sapere chi è che ha fatto una roba del genere forse evidentemente qualcuno si sarà sbagliato invece di andare a scaricare alla discarica sono venuti a scaricare in questa casa e hanno fatto il macello o dio o maronne raga veramente non ho parole per descrivere una roba del genere ci vuole veramente tanto tanto fegato a fare un gioco del genere cioè che poi il fatto è che devi veramente tanto tanto porconare come se non ci fosse un domani per poter togliere tutto oddio finalmente dio ti ringrazio per poter togliere tutto quanto sto cavolo di slerciume di qua anche sotto il tetto anche sotto il tetto guarda qua che cavolo di schifezza cioè dai non ci credo mai nella vita non ci credo mai nella vita io non riesco ancora a capire il perché di una roba del genere vabbè comunque sia ragazzi d'accordo è un gioco ci stiamo divertendo guarda qua voglio dire no oddio ragazzi qua non la finiamo più qui non la si finisce più maronne guardate qua vabbè d'accordo che è fatto anche abbastanza bene come titolo però però ribadisco che arrivati più in avanti ci sarà veramente tantissimo da porconare vicino a sto titolo perché poi dopo arriverà la fine che staremo veramente più tanto tempo per poter oddio pulire il tutto perché da quello che ho capito mi sa che le parti te le paga singolarmente si dovrebbe pagartele singolarmente oddio finalmente ce l'abbiamo fatta dunque mi sa che resta solamente il tetto resta un pochettino qui un pochettino qui qui sopra qui e si resta in tal caso tutto quanto il tetto ora scusi si oddio ci abbiamo anche la scala wireless e si però noto che in tal caso il giovane qua scivola scivola per il semplice fatto che la pressione che lo butta indietro per adesso abbiamo veramente pochissima pressione scusi no 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 non scivoli di sotto ma mi sguisce via il signore che è una cosa incredibile guarda qua che poi abbiamo anche le cacche degli uccelli voglio dire no fate un po conto voi di quanta cavolo di sporcizia che ci sta attaccata qua sopra e che due maroni dai gioco ok perfetto maronne e questo qui l'abbiamo pulito ora di sicuro qui ci sarà grasso erba olio benzina miscela insomma tutto quel che volete mamma mia guardate qua che cacchio di slurciume proprio attaccato proprio con la colla abbiamo lo slurciume attaccato proprio con la colla guarda qua cosa non viene via non viene via dai no non ditemi che non viene via o maronne no dai veramente state scherzando vero cioè e voglio dire no c'ho il getto c'ho l'ugello da 15 gradi vorrei ben vedere che cavolo è che devo usare forse magari devo usare quello lì a zero perché da quello che ho capito mi sa che ci sta anche l'ugello a zero ruotante tipo come una spada laser che a momenti ti trapassa pure il fegato oddio finalmente la carrozzeria diciamo che carrozzeria l'abbiamo fatta ok il oddio il motore anche l'abbiamo fatto resta soltanto lo sterzo dai non farmi agitare che già oddio che bello si ce l'abbiamo fatta sei pulito si sei pulito oddio oddio con quello la con il getto da 25 qua ce la possiamo fare beh credo forse quasi quasi di sì ok ma cosa abbiamo anche da fare i muretti oddio santissimo ci abbiamo anche da fare i muretti e qua mi sa tanto che mi conviene passare a quello a 15 perché sennò altrimenti non si riesce a fare niente devo stare attento perché non tutto quanto il getto arriva per esempio c'è fatto che sgrassa via il tutto soltanto dal centro però al di sotto ecco come potete ben notare al di sotto non tanto mi va a togliere lo slerciume e suppongo eccolo qua anche sotto oddio le piante un pochettino mi danno fastidio non dico poi così tanto però oddio finalmente ce l'abbiamo fatta continuo a pulire un attimino qui le vediamo un po che cavolo è che succede madonne guarda qua ma veramente ma c'è io vabbè raga è inutile che continuo a dirvelo ma secondo me qui veramente c'è da porconare ma veramente tanto si va bene perché comunque sia se lo fate abbastanza bene diciamo che problemi non ne avete cosa anche qua sotto come cavolo è che ci faccia ad arrivare vabbè e lascia stare va alzati forse magari la scala sarà tutta quanta intera e credo proprio di sì raga credo proprio quasi quasi di sì la scala sarà tutta quanta intera e fin quanto non la fai tutta non non te la considera non te la dinga però devo dire che è fatto veramente alquanto oddio finalmente ti ringrazio dio ti ringrazio dicevo è fatto veramente alquanto bene sto gioco nulla da dire ragazzi e nulla da dire dai dingami dingami ancora ok mi ha dingato che cos'è che rimane più vabbè rimane da fare tutto quanto tutto quanto lo spiazzale però non voglio usare nessun tipo di additivo ovvero di shampoo eccetera perché da quello che ho capito mi sa che ci sta anche per la roccia e sì da quello che ho capito mi sa proprio di sì dunque vediamo un attimino con quello lì a 25 con il getto a 25 vediamo un po se magari riusciamo a tirar fuori oddio nuovo lavoro disponibile no qua ci vuole per forza quello lì da 15 sì lo so mi state mandando messaggini lasciatemi stare lasciatemi lavorare sono venuto qui per guadagnarmi la pagnotta però cavolo voi me la state rendendo veramente molto 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 ma molto difficile oddio un altro bel ding ho sentito ottimo ci sta anche la muffa il muschio la ruggine maronne ripetisco ragazzi è fatto veramente benissimo però bisogna veramente porconare ma non puco ecco qui maronne speriamo che lo facciamo subito sto muretto perché non ce la faccio più oddio mi sa che sarà anche eccolo qua e dai dingamelo dove cavolo è che si oddio maronne dove cavolo è che si sporco ancora scusi signor muretto a ok olè perfetto dunque la recinzione purtroppo ragazzi devo farla sia da un verso che anche dall'altro forse magari qui ma la finisci di sguisciarmi via forse qui magari potrebbe andare bene anche quello lì da 25 vediamo un po girami un attimino l'ugello sì perché qui dovrebbe essere semplicemente dello sporco così però le asticelle il legno bisogna bisogna farle anche dall'altro lato con il getto da 40 invece mi sa tanto che funziona anche con il getto da 40 no non tanto perché non va via non va via e infatti si vede la differenza la differenza si note come vai 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 così e adesso come detto bisogna farlo anche così maronne forse sarà meglio usare quello la da 15 e dai non farmi porconare oddio ah mi sa tanto che è cala ok il piede me l'ha dato il paletto il paletto sì da notare da notare in primis quando passo io guardate un po cile ci resto le talpate ovunque maronne fine davanti oh ma io non sono arrivato fin davanti alla porta c'è quel quadra che non cosa ok uno ragazzi me l'ha dato un pannello me l'ha dato un altro oddio finalmente dio ti ringrazio cosa dovrei farmi tutti tutta quanta questa parete ma stiamo scherzando oddio no dai e siamo ancora al 38 per cento ragazzi e vi faccio notare 38 per cento ok perfetto dunque volevo vedere un attimino fatemi dare un'occhiata ah perfetto abbiamo una moto da cross del signor joe e arrivati a questo punto io direi di provare a pulire questa moto ed eccoci qua dunque possiamo iniziare con quello lì da ben 25 o magari da 15 io proverei con questo qui da 25 vediamo un po sperando che non ci sia ruggine perché se ci sia ruggine qua stiamo veramente nella m più totale oddio no dunque cerchiamo di stare quantomeno aspetta passami a quello là da 15 perché sennò qua stiamo ancora attaccati qua vicino mamma mia ma scusi signor joe ma dove cavolo mi è andato ok d'accordo sei un motociclista va bene ci potrebbe pure stare però cacchio guarda qua che cavolo dunque di sicuro ci sarà anche sotto la sporcizia guarda qua è tutta attaccata maronne in quanto tempo riusciranno i nostri eroi a completare questo piccolo lavoretto non si sa mamma mia guardate qua quanto cavolo di slercium è attaccato oddio però le singole parti me le calcola singolarmente ma serio oddio il manubrio oddio non ci credo ragazzi oddio aspetta una botta di lag ogni tanto va bene è ok il cerchione mi sa che oddio la gomma anche il marmittino qui dai e forza ok l'altra gomma fatta il marmittino anche grazie gentili oddio il disco dei freni l'altro disco dei freni grazie gentilissimo caro 96 per cento ragazzi 96 per cento e firing no aspetta oddio aspetta ma cavolo è che faccia ad arrivare ok l'ha fatto aspettate perché ci sta anche il parafanghi eccolo qua aspetta ok il telaio ottimo sotto qua non l'ho ancora ben capito dove cavolo è che ok la forcella anche 99 per cento dai e dai e ok il motore l'abbiamo fatto mi sa che aspettate eccolo qua un altro po di slercium è qui non riesco a vedere assolutamente niente eccoli i punti gialli maledetti aspetta guardalo guardalo qua c'è che poi voglio dire come cavolo ok fatto ah ok oddio finalmente lavoro completato oddio però devo dire che non è stato poi così tantissimo sono già più o meno una quarantina di minuti che sto in video in registrazione oddio possiamo guardare anche il prima e il dopo a due a velocità ultra elevata oddio si maronne 75 dollari ok abbiamo ben 325 dollari bene signori io direi che per questo primissimo appuntamento della serie di power wash simulator è tutto mi raccomando fatemi sapere anche la vostra qui sotto qui nei commenti di che cosa ne pensate se questo video vi è piaciuto vi invito gentilmente a lasciare un like a questo video commentare ad iscrivervi attivare la campanellina condividere questo video per poter aiutare serie e canale a crescere soltanto una cosa a fine video vorrei dirvi dunque se mi avete visto che non ho più caricato video sul canale di youtube e per il semplice fatto che in primis dato che comunque sia sto lavorando eccetera purtroppo la sera quando mi ritiro sono le sei e mezza poi mi faccio una doccia veloce vado a cenare e ovviamente ragazzi la stanchezza a fine serata si fa sentire e alle 11 barra 11 e 30 sono già nel letto per il giorno dopo perché comunque sia il giorno dopo mi alzo sempre alle 5 la mattina per poter andare a lavorare perché devo essere in officina alle 5 e mezza 6 meno un quarto e la sera ragazzi arrivo a casa veramente che sono distrutto e quindi non riesco nemmeno quantomeno a fare video a reccare eccetera eccetera perché come detto prima la stanchezza si fa sentire mentre invece il sabato ovviamente faccio festa cioè tutti quanti in officina facciamo festa perché il lavoro va dal lunedì al venerdì quindi sabato diciamo tra virgolette sabato fascista che non si lavora eccetera però comunque sia l'orario è dalle 5 e mezza alla mattina alle 6 meno un quarto fino all'una poi ci sta la pausa fino alle 2 e mezza del pomeriggio e si stacca alle 6 e mezza alla sera niente ragazzi detto questo concludo qui questo video come detto mi raccomando spolliciate commentate iscrivetevi attivate la campanellina soprattutto condividete questo video per poter aiutare speriamo serie e canale in generale a crescere detto questo noi ci si becca in un prossimo video un saluto a tutti da g90 gamer ciao ciao